Salve a tutti ragazzi, qui TTD, sì no, scherzavo gli altri giorni, io scherzavo ragazzi, sarò del tutto sincero con voi, stavo scherzando quando ho detto che usciva Ribrianne, a parte l'ora, mi sono svegliato da pochissimo, sì mi sono svegliato vedendo la faccia di Ribrianne, mamma mia che bel risveglio, uno si sveglia, la faccia di Ribrianne, ok va bene partiamo guardare le animazioni di Ribrianne, intro cacunsa lì come si chiama vabbè, ma quanto fa cagare scusate, Ribrianne è la parte peggiore di questa speciale, Ribrianne è la parte peggiore di questa special, ok carino questo, questo non tanto, amore, posso dire che Ribrianne è la parte peggiore di tutta questa special, active, no vabbè, ma è una revive, no non l'ho letto il kit sarò sincero quindi, no è una giant, oh no è una giant, no non ci credo che cacchio, mi matta meglio dai, oddio che faccia, madonna santa, mamma mia che schifo raga dai ma cos'è, mamma mia che schifo vabbè, facciamo finta di niente, andiamo a guardare il kit, almeno sarà forte, lo spero perché, yeah special pose of power of wishes, chi più quattro centocinquanta, greatly raises attack death per un turno, cause colossal damage, greatly raises attack death per un turno, cause colossal damage, mega colossal damage, ok, ok va bene, attiva la entrance animation una volta sola, cambia le str, le agl, le fisiche, i orb in tech, ok, nello stesso turno, e chi più tre per tre turni dall'inizio del turno, ok, chi più tre attacca death 122%, cambia le str in tech, medium chance di cambiare lgl in tech, medium chance di cambiare le fisiche in tech, ok, lancia un additional attack che ha una high chance di diventare super attack quando gli hp sono 66% or more, lancia un additional attack con una great chance di diventare super attack when there is another universe survival saga category ally attacking the same turn or enemy, vedete? con gira non glielo fanno, ma con ribrianne sì, lo fa anche con l'enemy, chi più due e l'alleato, chi più due attacca death 122% when attacking and riduce il danno del 22% con due o più type key sphere obtained, ok, di qualsiasi tipo. chance of performing a critical hit più 22%, up to 66%, every time the character obtains two key sphere within the same turn. ma fa cagare fa letteralmente cagare cioè 122%, ok, più 122%, perché questi sono i due, e c'ha 22% damage reduction, c'ha 122 e 122 all'attacco, ok, va bene. giant form, diventa giant per due turni, si può attivare, ah, due turni, proprio due turni, forzato, niente tre, due turni, fine. si può attivare quando c'è un altro power of wishes category ally attacking the same turn, se gli hp sono 66% o meno, o si può attivare dal sesto turno. ok, molto difficile da attivare, soprattutto comunque in generale i link, scusate, more than meet the eyes, metamorphosis, battlefield diva, signature pose, tournament of power, first battle, legendary power. quindi praticamente non linka con nessuno, tanta roba, rebriane. greatly raises attack temporaneamente, causa destructive damage, chi più due per key sphere obtained, cambia le str in tech, e cambia le orb che non sono str e tech in rainbow. ha il chance di performare un critical hit. sono felice che questo sia ribriane, cioè, sono veramente felice che questa larra è ribriane, perché le animazioni facciamo anche a gare, il kit fa cagare, perfetto, esce il banner, se c'è bulma che si compra con i coin, la compro con i coin, ciao, addio, no more, non devo più guardare sto cesso di carta, me ne vado, scappo, ciao, addio. giusto per essere sicuro, ho visto ora che l'ha fatto anche Goresh, quindi mi era capitato sotto quello di Dokkan, di Dokkan Battle Wiki, vediamo una, ah, perfetto, non è greatly raises, è raises normale, la 12, ok. scusate, un secondo, che deve riduce il danno del 22 when collecting two or more, ok, chance di performare un crit 22, quindi l'ho letta bene, fondamentalmente, ok, va bene. grazie mille Dokkan Battle per questa LR, veramente, 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 veramente fortissima, cioè, LR ribriane, tutti la volevano, assolutamente, mettere il PT sulla carta che nessuno si inculerà, farà veramente bene per il PT, nel senso, mi spiego, se stanno usando Goku Int sul Global, arriva lo showcase per voi del Global, preparatevi, non pullateci, ovviamente, e ribriane, no, mettono il PT per questi due banner, e notano che effettivamente nessuno se li incula, poi rimuovono il PT, l'hanno fatto apposta a scegliere proprio queste due carte per il PT, no, una carta che è l'LR peggiore del gioco, a rilascio, che è Goku Int, e ribriane, vedo la mossa, eh, Dokkan, vedo la mossa, cioè, capisco se togliete il PT, eh, tanto, yeah, pullare per ribriane, sì, no, ma sì, sì, cioè, assolutamente, a quel punto preferivo Fit Buu, o il trio da Danger, ragazzi, io non ho altro da dire, l'andiamo a provare appena esce, esce nel server, quindi, yeah, basta, ribriane, l'R